in questo nuovo video continuiamo la scoperta dell'interfaccia grafica di openhab 3 andando a esplorare una nuova feature introdotta proprio in maniera nativa da questa nuova release stiamo parlando infatti della creazione di un floor plan interattivo cioè una planimetria di una stanza di un intero piano sia s2d o 3d sulla quale è possibile interagire direttamente con i dispositivi domotici gestiti da openhab stesso chi ha già sbattuto la testa sulle versioni precedenti di openhab avrà notato che era già possibile implementarla non con poche difficoltà e soprattutto non in maniera nativa e direttamente da interfaccia grafica così come adesso andiamo quindi a vedere come si fa con un solito esempio sulla nostra versione di test per il nostro esempio andremo a creare il floor plan della cucina e per far questo sfrutto una vecchia immagine che avevo di una progettazione che avevamo fatto a suo tempo della cucina che ho pubblicato sul mio serverino e che quindi posso poi utilizzare per creare il floor plan quindi andiamo sulla nostra interfaccia di openhab come al solito ci logghiamo e andiamo ad implementare il nostro model che nello stato in cui l'avevamo lasciato l'altra volta quindi al piano terra andiamo ad aggiungere una location che la cucina vado veloce tanto i passi sono gli stessi dell'altra volta all'interno della cucina quindi dobbiamo andare ad aggiungere per il nostro esempio un interruttore per la luce il rilevatore di gas temperatura e umidità così poi li andremo a posizionare sulla nostra planimetria e li renderemo interattivi andiamo ad aggiungere quindi i nostri vari sensori e interruttore prima cosa aggiungiamo come equipment il termostato come abbiamo fatto la volta scorsa termostato virtuale una volta aggiunto l'equipment aggiungiamo all'interno temperatura e umidità come point e utilizziamo il solito openhab 2 tramite il binding ok quindi abbiamo la nostra cucina col termostato e le due misurazioni vediamo un po i dati vengono fuori perfetto adesso aggiungiamo nella cucina il sensore di gas direttamente come point ok ce l'abbiamo qui e poi aggiungiamo l'interruttore sempre come point per far più in fretta anche il gas prende i dati e l'interruttore della cucina vabbè adesso è spento ok a questo punto possiamo andare a creare il nostro floor plan quindi andiamo nella gestione delle pagine con il solito più ne aggiungiamo una nuova e la creiamo di tipo floor plan gli diamo una label cucina 2d poi ce la rendiamo visibile nella sidebar quindi apparirà poi in questa parte per comodità perché man mano che facciamo le modifiche le salviamo possiamo cliccare sul link veloce da questo lato per vedere subito le modifiche interattive perché il problema è che quando la si progetta i pulsanti e tutto non sono interattivi ok quindi andiamo a mettergli l'urlo dell'immagine lasciamo perdere tutte le altre proprietà mettiamo background default e poi per aggiungere i marker che non sono nient'altro che i vari oggetti dispositivi che vogliamo posizionare sulla mappa possiamo farlo in maniera diciamo standard di qua testuale chiamiamola oppure andando in run mode cioè in modalità esecuzione lo possiamo fare in maniera interattiva che è molto più comodo quindi clicchiamo su switch to run mode e abbiamo la nostra floor plan quindi aggiungiamo un marker con il pulsante in alto a destra ci viene posizionato e iniziamo a mettere il sensore di gas quindi lo posizioniamo sopra la k perché più o meno io ce l'ho da quella parte clicchiamo configure gli andiamo a scrivere che cos'è sensore gas scegliamo l'item che dovrebbe esserci eccolo qua l'icona bisogna dare il prefisso oh e questo lo chiamiamo gas l'icona colore size lascio perdere il tooltip non lo metterei perché poi come tooltip appare il valore rilevato dal sensore e quindi è comodo normalmente il tooltip appare solo se il mouse c'è sopra o se ci si clicca sopra e quindi guardando la floor plan non si vedrebbero i valori dei sensori quindi conviene sempre mettere always display the tooltip e non mettere nulla nel testo altrimenti il testo sovrascrive il valore lasciamo tutto il resto così com'è e diciamo che questo è un pulsante che non sarà interattivo quindi non gli faremo fare nessuna azione al click andiamo su done e vedete che già tutto funziona quindi lo vedo e vedo il valore che dovrebbe aggiornarsi in tempo reale adesso andiamo ad aggiungere la luce quindi facciamo l'add marker mettiamo in centro stanza configura luce cucina l'item è quello che abbiamo creato prima l'icona mettiamo light occhio che se mettete light bulb non diventa poi sensibile allo stato questo perché l'icona light diventa gialla o bianca in funzione se la luce è accesa o spenta quindi da un'indicazione visiva dello stato del componente e bisogna usare light quindi mettiamo il flag che l'icona dipende dallo stato size possiamo farla magari un po più grossa mettiamo 80 40 il default mettiamo 80 colore lasciamo quello che è il tooltip in questo caso può non interessarci tanto lo vediamo dalla dall'icona se è acceso spenta e in questo caso però dobbiamo decidere che cosa fargli fare la action quindi in teoria noi vogliamo che ogni click venga invertito lo stato quindi mettiamo il toggle item come azione e poi mettiamo nell'action command on e nel toggle command off mettiamo done e abbiamo la nostra luce la possiamo posizionare dove vogliamo a questo punto aggiungiamo anche il nostro termostato quindi aggiungiamo un marker termostato io più o meno ce l'ho qua quindi lo posiziono lì configuro scrivo termostato cucina vado a cercarlo lo aggiungo l'icona gli mettiamo sempre la solita heating in questo caso non abbiamo valori perché questo termostato è un insieme di valori di umidità e temperatura quindi non ha senso neanche mostrare un valore aggregato che comunque in questo momento non sta calcolando però facciamo sì che quando ci clicco sopra faccio un gruppo di tails cioè faccio vedere il dettaglio di un gli item diciamo presenti all'interno di un gruppo in questo caso il gruppo è il termostato stesso perché gli equipment sappiamo che sono dei gruppi che raggruppano altri gruppi o degli item e quindi abbiamo il nostro termostato come vedete il tooltip è null perché non ha un valore di riferimento come gruppo però se ci clicco sopra ah no già ecco questo è quello che vi dicevo prima in questa modalità di semi interattività dove posso modificare il floor plan e vedere come appare non posso però utilizzare le azioni perché il click sull'oggetto mi apre il menu di gestione quindi per andare a verificare cosa succede al click io salvo vedete che qui nel menu a sinistra mi è apparso il floor plan appena creato ci clicco mi appare il floor plan a questo punto dovrebbe diventare interattivo ci clicco sopra mi apre i due valori contenuti nel gruppo temperatura e umidità quindi ho fatto questo esempio proprio per farvi vedere come si può vedere un valore direttamente nel floor plan oppure si può avere una visualizzazione a pop up con un insieme di valori che forse è un po più scomoda perché bisogna per forza cliccare per vederne i dati certo che se si hanno dei gruppi di dispositivi che sono tra loro omogenei e quindi il gruppo calcola un valore ad esempio potremmo avere il gruppo dei tutti i sensori di temperatura del piano terra e il gruppo mi calcola la media quindi in quel caso lì se avessi il floor plan di tutto il piano potrei vedere il valore medio della temperatura del piano terra cliccando ci vedrei lo spaccato quindi il dettaglio di delle singole stanze queste poi sono scelte molto soggettive per verificare la luce possiamo sfruttare l'interfaccia del nostro sonoff con tasmota che questa che vedete qui pulsante 1 è quello che mi comanda la luce della cucina quindi torniamo sul floor plan clicchiamo e non succede niente quindi c'è qualcosa che non va andiamo a vedere nelle impostazioni se ho sbagliato qualcosa quindi cerchiamo il nostro interruttore l'azione gli ho detto di fare il toggle item ah non gli ho scelto l'oggetto sul quale deve lavorare luce cucina ok save ricarichiamo il nostro floor plan e riproviamo adesso clicchiamo vedete che è diventato giallo funziona qui interruttore su on quindi clicco spengo la luce e qua viene su off se l'accendo direttamente dal sonoff quindi da diciamo dall'esterno di openhab comunque la luce diventa gialla se la spengo la luce diventa bianca bene funziona tutto quindi il nostro esempio è andato a buon fine a parte l'intoppo di prima relativo al pulsante della luce comunque è tutto abbastanza intuitivo a livello di progettazione prima era molto più complesso fare una cosa del genere si poteva fare sulla versione 2 di openhab ma era molto più complesso adesso qua si fa tutto con semplicemente con il mouse creazione di widget e configurazione tutto da pannello grafico